Una terribile sorpresa questa mattina all'alba per gli abitanti di Napoli. Nella notte un incendio ha completamente distrutto la Venere degli Stracci. Installazione di arte contemporanea realizzata da Michelangelo Pistoletto è situata in piazza Municipio. Le fiamme hanno bruciato i vestiti che circondavano la statua della Venere, che si è letteralmente sciolta. Va in ogni tentativo, da parte dei vigili del fuoco, di spegnere le fiamme prima che l'opera venisse distrutta del tutto. L'incendio è divampato poco dopo le 5 e della statua della Venere restano solo pochi brandelli di tela di vetroresina, oltre alla struttura metallica. Già partite le prime indagini per accertare l'origine dell'incendio, ma sarebbero ben pochi i dubbi sulla natura dolosa del rovo. Gli investigatori sono al lavoro anche per acquisire le immagini di alcune telecamere installate nei pressi di piazza Municipio. Inoltre, il lavoro di indagine si sta concentrando anche su due barattoli ritrovati a poca distanza. Una delle ipotesi è che contenessero un liquido capace di alimentare più velocemente l'incendio. La Venere degli stracci, opera di Michelangelo Pistoletto, era stata inaugurata solo lo scorso 28 giugno dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presenza del leggendario artista, che in quell'occasione aveva spiegato il significato dell'opera. Venere, dea dell'amore e della bellezza, rigenera gli stracci, che da rifiuti diventano opera d'arte vivente. Il sindaco Manfredi ha espresso sgomento per l'accaduto, ma ha anche spiegato che l'opera sarà rifatta in futuro. Dalla fondazione Pistoletto, invece, riferiscono che nei giorni scorsi, sui social, era partita una sorta di sfida per distruggere la Venere degli stracci. Francesco Emilio Borrelli, deputato campano dell'Alleanza Verdi Sinistra, ha invece parlato di rabbia e dolore per l'accaduto, specialmente perché piazza Municipio dà tempo e teatro di atti vandalici di ogni genere, senza particolari misure di sicurezza. Grazie a tutti.